Dopo Reggio Calabria, il prefettura tour del sottosegretario agli interni, Carlo Sibilia, ha fatto tappa anche a Vibo Valencia, dove dopo gli incontri istituzionali presso il Palazzo di Governo si è recato a visitare alcuni immobili sottratti all'Andrangheta e riassegnati ad alcune associazioni presenti sul territorio vibonese. E la seconda volta che il sottosegretario, che ha la delega per le materie di competenza del Dipartamento per gli Affari Interni e Territoriali relativa alla Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali di Governo e per le autonomie locali e per materie di competenza del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, che viene a Vibo Valencia per rendersi conto della situazione. Questo è un tour per le prefetture, è molto più sostanzioso, ho voluto proprio tenere l'attenzione in particolare su quelle che sono le zone più difficili del nostro Paese, che però hanno tutto il nostro supporto e penso che anche le notizie che arrivano in questi giorni, dei vari arresti, ad esempio quello di Pantaleu, nevancuso di oggi, secondo me è un qualcosa in più che si dà alla Calabria onesta, quella che vuole resistere. Qual è la situazione attuale? Diciamo che rispetto all'ultima visita ci sono fatti dei passi avanti notevoli, io ho già per esempio parlato proprio oggi con il questore e possiamo dire che c'è stato per esempio un saldo attivo di 30 nuove unità, così come si era detto qualche mese fa, quindi ci sono 30 nuovi poliziotti ad assicurare la sicurezza dei cittadini e della provincia di Vibo, quindi si è ricostituito il nucleo dei beni confiscati, questo è già qualcosa di molto importante perché è un segnale della prefettura di presenza sul territorio, si stanno valutando tutti questi beni e io penso che si stanno facendo dei passi avanti notevoli, quindi oggi i cittadini sanno che scegliere lo Stato è una buona strada perché la stiamo perseguendo con tutte le nostre forze. Soddisfatto il prefetto di Vibo Valenza, Giuseppe Gualtieri. Sì, sono simboli importanti perché si capisce che lo Stato centrale è vicino alle periferie e si capisce che la provincia di Vibo è una di quelle province dove l'impegno è maggiore e dove vi sono percentuali di crescita e di cambiamento.